Grazie a tutti. Un video importante che ha coinvolto fotoreporter di fama nazionale e internazionale come Egno Remondino e Maurizio Torrealta, tutor dei ragazzi che hanno realizzato questi lavori. Attraverso anche un finanziamento per agevolare lo start-up iniziale, questi video reportage sono stati possibili. Ma sentiamo i diretti interessati. Felicia Buonuomo ed Elena Borromeo, autrici dell'inchiesta Mani Pulite 2.0 nell'ambito del premio Roberto Morione. Tu sei felice, avete affrontato il tema della corruzione nel mondo politico. Sì, esatto. Noi partiamo da un caso particolare che è un appalto verso la Camera per un servizio informatico alla Camera dei Deputati. E lì approfondendo quello che potrebbe essere un semplice appalto pubblico abbiamo scoperto che c'era un sistema di scatole cinesi e che c'erano personaggi legati alla vicenda giudiziaria nota come Mani Pulite. Ed è stato quindi un lavoro molto complesso di approfondimento, di inchiesta propriamente giornalistica che ci ha portato in giro per l'Italia ma anche all'estero perché siamo giunte persino in Lussemburgo a scoprire l'ultimo tassello di quelle che erano le scatole cinesi. Il nostro intento è quello di aprire un caso proprio in Parlamento perché i caratteri di questa inchiesta sono, diciamo, come dire, inediti. Siamo state le prime ad affrontare questo tipo di argomentazione e speriamo che, diciamo, il pubblico non rimanga, diciamo, inerme di fronte alla realtà che rappresentiamo. Quali sono gli ostacoli che avete trovato? Beh, trattandosi di un'argomentazione delicata abbiamo trovato, diciamo, molte resistenze da parte dei nostri interlocutori nel raccontare e parlare di questo delicato appalto ma le nostre fonti erano principalmente documentali per cui siamo riuscite in qualche modo a ricostruire una vicenda, a farla emergere, una vicenda che non era nota, insomma. Tra i finalisti del premio Morrione, prima edizione, un tema che scotta, un'inchiesta che riguarda la Sicilia, le sue 800 miniere abbandonate con rifiuti radioattivi che avete scoperto. Sì, l'inchiesta è stata veramente dura da fare in un territorio comunque abbastanza minato che è la Sicilia, parlando di mafia ed eco-mafia. È un tema che da tempo seguiamo perché in Sicilia vi sono varie miniere di zolfo e di salipotassici, mentre quelli di zolfo sono state chiuse per legge nazionale negli anni 70, poiché insomma i lavoratori erano sfruttati, mentre le miniere di sale hanno continuato ad operare e poi negli anni 90 spiegabilmente sono state chiuse. Quindi noi in primis abbiamo anche tracciato nella nostra inchiesta l'aspetto economico della Costituzione di enti con a capo figure inquietanti come Vito Guarrasio, Ghetano Verzotto, personaggi importanti nella Sicilia degli anni 70 e 80, protagonisti in ogni azione industriale siciliana, poiché le miniere erano la prima industria, prima ancora dell'agricoltura e quindi personaggi legati a vari aspetti, a vari misteri d'Italia. Basta pensare che l'ente minerario siciliano, cioè l'ente economico che andava a costituire poi le varie miniere in Sicilia non è ancora chiuso, quindi è impensabile che vada in liquidazione proprio per tutta questa serie di enti che poi sono state create sotto tipo scatole cinesi. Parlando dei rifiuti, sì, noi ci siamo recati nelle miniere dove è possibile recarsi, anche perché molte di loro sono sotto sequestro, quindi era impossibile anche entrarci. Però in una di queste, nella provincia di Caltanissetta, a Serra di Falco, in un caseggiato abbandonato, lì vicino abbiamo rinvenuto dei documenti dove c'è documenti che attestavano un avvenuto smaltimento di rifiuti tossici e speciali, anche provenienti da Riccione. Noi proprio nella nostra inchiesta alla fine mostriamo uno di questi documenti dove questi rifiuti provengono appunto da Riccione. Collegati anche dalla Romagna? Sì, sì, non abbiamo scelto a caso quel documento proprio di Riccione, però pensando che oggi siamo qui a Riccione a presentare l'inchiesta al Premio Lare Alpi, mi è venuto insomma questa immagine, questo frame dell'inchiesta in testa. Quindi un'inchiesta che si è ramificata in più regioni italiane? No, noi abbiamo, cioè le nostre inchieste si basano sulle cave siciliane, sulle miniere dismesse di Sicilia, anche se il tema ritorna attualissimo in questi giorni con gli operai della Carbon Sulcis in Sardegna, anche se sono miniere di carbone. Che idea ti sei fatto? Cosa ne pensi di quello che vedi che sta succedendo in Sardegna? Ecco, tra l'altro io ho anche dato un mio spunto autobiografico nell'inchiesta, nel senso che in una di queste miniere, nella miniere di Pasquasia, situata in provincia di Enna, ci lavorava mio papà. Quindi ho vissuto, quando ero piccolo, negli anni 90, proprio momenti di disperazione, poiché appunto i minatori protestavano per le chiusure delle miniere. Quindi ti senti vicino a quello che sta succedendo ai minatori sardi? Sì, non solo vicino, ma quello che non ci auguriamo noi è che magari le miniere in Sardegna possano essere chiuse per lo stesso motivo della Sicilia. In Sicilia è rimasto il mistero, nessuno sa dei minatori che abbiamo intervistato come mai quelle miniere sono state chiuse, anche perché le miniere di salipotassi c'erano super produttive e da tantissimi documenti che abbiamo consultato si attestano anche come le più produttive in Europa, solo dietro alcune aziende tedesche. Quindi con una super produttività, chiudere le miniere. Poi c'è un altro fatto che ancora non è stato risolto e sul quale ci sono anche di recente delle interrogazioni parlamentari. Quindi basti pensare Pasquasia e l'Enea, cosa andò a fare l'agenzia che si occupa di energie atomiche nucleare a Pasquasia a scavare delle gallerie e i minatori che raccontano di queste gallerie in argilla. L'argilla è un materiale che può contenere o il solo materiale che può contenere appunto il radioattivo e il nucleare e dopodiché la chiusura delle miniere. Quindi gente poi lasciata a casa per non lavorare. Insomma di questo abbiamo tracciato le linee guida di tutta la vicenda. Francesco D'Augustinis, autore del tabacco che uccide senza fumarlo. Premio Roberto Morione. Innanzitutto prima di andare dentro al tuo lavoro parliamo anche del progetto perché avete avuto un finanziamento per lo start-up iniziale. Immagino sei stato utile. Sì, sicuramente. Io era un progetto che avevo intravisto già lavorando nel lavoro di tutti i giorni in un'occasione in cui avevo avuto modo con una delle persone che poi ho finito per intervistare che mi aveva accennato di questa realtà che sono andato poi a studiare. e il grave è stato che finché lavoravo nel modo in cui lavoravo quotidianamente non potevo andare a seguire questa storia. Quindi era una storia che era rimasta accennata, era rimasta un po' appesa a quel primo indizio. Invece il progetto, cioè da una parte è stato proprio questo, penso, il modo in cui è riuscito pienamente perché mi ha dato i mezzi, fossero anche finanziari, ma anche il poterci dedicare del tempo in maniera utile per portare avanti questa storia. Quindi già il fatto che sia stata una storia che alla fine è stata raccontata, penso sia già un primo successo. Il primo successo. E poi all'interno di questo premio avete avuto anche dei tutor molto particolari. Tu hai avuto Ennio Raimondino. Sì, io anche sotto questo fronte sono stato sicuramente molto fortunato. Lui è poi una persona che ha dimostrato nel tempo di incarnare proprio lo spirito del progetto in quanto si è molto entusiasmato a piene mani nel progetto, si è interessato lui per primo. Quindi se non altro come guida è stata una dimostrazione di un tipo di giornalista che ha piacere nel trasferirti le sue competenze enormi. Conosciamo tutti. Sono conosciute naturalmente. Andiamo al succo del tuo lavoro perché il tabacco uccide con il dilagare dell'utilizzo dei prodotti chimici nei campi. Una volta i campi di tabacco erano serbatoi di mano d'opera, oggi però ci sono dei grossi rischi. Esatto. Infatti quella del tabacco, almeno per come poi l'ho scoperta anch'io man mano lavorando e parlando con le persone che ci lavorano, piuttosto che con gli imprenditori o con le associazioni di categorie, si è dimostrato un settore dove... Più che altro è una storia esemplare di quello che poi magari è il modo in cui si è trasformata senza che i più lo sapessero l'agricoltura negli ultimi decenni, quindi da un'agricoltura tradizionale dove c'erano appunto le tabacchine, figura storica, eccetera, a quella moderna che è fatta di macchinari, di coltivazioni intensive, di pesticidi per andare anche oltre, magari negli OGM piuttosto che... quindi è stato vedere sotto vari fronti, salute, lavoro, cibo, alimentazione in questo caso marginalmente, però comunque c'entra come si è passato dal passato alla modernità e poi si è ripresentato anche quello che è poi uno dei temi molto attuali adesso che è proprio il conflitto fra chi lavora e chi invece deve difendere il diritto alla salute, quello ambientale, insomma di Donizio Taranto, eccetera, è proprio la stessa cosa che si è riproposta insomma che quindi ha reso ancora più attuale il lavoro che ho fatto e sono anche aspetti che sono venuti fuori andando avanti, insomma perché era partito da una storia per poi... Poi tutto si è evoluto, cosa significa arrivare tra i finalisti del premio Morrione? Ma è sicuramente una soddisfazione, forse anche più grande di me, insomma sotto l'aspetto proprio insomma del riconoscimento di un lavoro, chiaramente mi trovo qui che è un contesto insomma per me veramente più grande di me perché per me l'area Alpi, voglio dire, ci vorrei comunque a vederlo, a vedere insomma gente che ci ha strumento da insegnare